carissimi pace pace del signore continuiamo a leggere nel capitolo 10 del libro di giosuè oggetto della nostra riflessione di stamattina sono i versi da 12 al 19 ritorneremo in pratica su qualcosa che abbiamo già accennato l'altro ieri vale a dire sull'intervento miracoloso di dio che uso l'espressione della bibbia fermò il sole in mezzo al cielo sapete bene l'ho già detto la volta scorsa che questa espressione è legata alle limitate conoscenze dell'autore del libro da un punto di vista scientifico perché a quei tempi si pensava che il sole fosse qualcosa che ruotava intorno alla terra che era vista come il centro dell'universo soltanto in seguito la scienza ha scoperto che è esattamente il contrario vale a dire la terra che ruota intorno al sole ma al di là di questo aspetto che era in ogni caso buono nuovamente precisare ciò su cui vorrei soffermarmi e quanto accennato la volta scorsa vale a dire la potenza della preghiera c'è una richiesta da parte di giosuè e cioè che ci fosse a lungo della luce che quindi il giorno potesse durare più del solito perché bisognava portare a compimento quella battaglia e quindi ottenere una vittoria definitiva e dio rispose rispose in questo modo straordinario la preghiera quindi la preghiera è qualcosa che dio ha dato all'uomo affinché egli possa comunicare con lui ed è sicuramente qualcosa che ci permette di vivere in comunione col signore perché possiamo tramite la preghiera presentare anche i nostri bisogni e le nostre richieste naturalmente bisogni e richieste devono essere lecite pregare per la morte di qualcuno non ha senso tanto per fare un esempio chiedere a dio che qualcuno possa subire del male è poco ortodosso di sicuro non si addice a un cristiano i cui sentimenti devono essere alla luce della nuova nascita nobili però possiamo pregare per altre cose piccole cose o grandi cose l'importante che noi abbiamo fede nel signore che crediamo che gli possa operare in in modi anche che vanno al di là di ciò che noi pensiamo come possibile perché dio rimane ancora oggi lì dio dell'impossibile cioè quello che colui che può fare quanto l'uomo non è capace di fare la storia di abramo o meglio della nascita di isacco ci ricorda proprio questo ma non solo la risurrezione di lazaro il ritorno in vita della figlia di jairo i paralitici che tornarono a camminare in modo istantaneo come i ciechi che recupereranno la vista senza che ci fosse un intervento medico sono testimonianze del fatto che il signore può fare ogni cosa ecco perché la bibbia ci dice che molto può la preghiera del giusto perché appunto nel nome di gesù non c'è limite agli interventi divini ebbene a tal proposito ricordiamoci alcune cose che secondo me sono importanti ed è buono ripresentare davanti ai nostri occhi quando preghiamo uno preghiamo con fede preghiamo con fede perché sappiamo in chi abbiamo creduto quando preghiamo preghiamo per gesù e nel nome di gesù non pensiamo che dio ci debba rispondere perché noi siamo in un certo modo non pensiamo che dio non ci possa rispondere perché noi siamo in un altro modo noi aggrappiamoci al nome di cristo alla sua opera alla croce questo significa pregare nel nome di gesù e crediamo crediamo nel nome di dio quando preghiamo poi dobbiamo disporci a insistere nella preghiera perché la preghiera non può essere una richiesta così campati in aria fatta in un momento o di disperazione poi basta no no la bibbia ce lo dice dobbiamo picchiare con insistenza dobbiamo bussare ripetutamente e allora il signore ci risponderà quando preghiamo disponiamoci quindi non solo a chiedere a chiedere con insistenza ma anche ad aspettare i tempi della risposta di dio credendo che dio interverrà proprio al momento opportuno voglio dire il signore che fermò il sole in quell'istante colui che opera in modo istantaneo quando ciò è necessario in altre parole a pietro che sta gridando signore sto annegando il signore stende subito la mano e lo tira su ma non sempre di operato in questo modo ci sono delle volte in cui tra il tempo nel quale il signore fa la promessa o nel quale qualcuno prega il momento in cui la risposta arriva ci sono dei tempi dei tempi che bisogna aspettare questo perché dio sa quello che il tempo opportuno quando preghiamo disponiamoci anche ad ascoltare ad accettare l'eventuale no da parte del signore perché dio potrebbe anche avere un piano un'idea contraria alla nostra ricordiamoci che l'idea di dio è sempre l'idea migliore è l'idea che porterà dei beni le benedizioni alla nostra vita e giosuè pregò pregò in modo audace credette il signore intervenne gli ottenne la vittoria e tutto fu straordinario e io credo che ancora oggi dio può fare queste cose straordinarie credo che la nostra vita può essere straordinaria se siamo costanti nel pregare se preghiamo con fede se preghiamo con la consapevolezza che di ogni cosa è possibile una volta ho letto un libro riguardante i dodici discepoli erano degli studi su ognuno di loro e aveva questo titolo dodici uomini ordinari chiamati a qualcosa di straordinario sì noi siamo uomini ordinari come giosuè come elia come i discepoli come quanti ci hanno proceduto nella strada della fede ma crediamo in un dio straordinario e quindi crediamo che egli può fare cose gloriose perciò andiamo avanti e non ci scoraggiamo anche quando sembra che tutto vada tutto remi contro perché la nostra fede riposta in colui che è vivente e che ci ha invitato a presentare a lui le nostre richieste credendo che nel suo nome il padre celeste ci concederà ogni cosa che è buona ed è nella sua volontà stai aspettando da tanto stai pregando e forse ti stai scoraggiando non dare ascolto alla vita alla voce della tua ansietà continua a pregare cerca la risposta del signore vedrai Dio non ti deluderà e al momento opportuno interverrà secondo la sua volontà la sua grazia la sua pace il suo amore ci accompagna ancora oggi Dio ci benedica insieme